Ancora problemi nell'Ulss7, ancora segnalazioni di liste d'attesa che sembrano non finire mai e ancora una volta chi ci contatta ha riscontrato queste difficoltà di organizzazione all'ospedale di Bassano. La paziente in questione ha avuto diversi problemi a causa di una ciste, si è rivolta a un dermatologo per una visita entro 90 giorni ma... Mi è stato risposto che loro avevano ancora il tempo fino a fine luglio, in realtà erano già passati i 90 giorni perché la ricetta è del 29.03.2023, quindi tre mesi d'attesa erano già passati. La signorina mi ha liquidato così, ho detto ok, ho richiamato di nuovo a fine agosto per capire come funzionava il sollecito, se bisognava fare qualcosa e mi è stato risposto no, che io sono in lista d'attesa, quando si libererà il posto mi faranno sapere. Allora, io non sono un dottore e penso sia una ciste, però se avevo chiesto una visita dermatologica era per capire cosa avevo, se era una cosa grave penso che dopo cinque mesi una persona sia un problema perché si possono complicare le cose. E infatti di problemi la signora Deborah ne ha avuti e le sue condizioni sono peggiorate. Visto che la sanità la pago, sempre pagata una vita che lavoro, vorrei almeno che fosse come io rispetto e pago le tasse e pago per avere questo servizio, vorrei che ci fossero delle tempistiche rispettate o almeno mi fosse dato una seria giustificazione per cui non è stata rispettata la tempistica o se io anche adesso vado a fare una richiesta urgente perché mi fa male, devo ripartire dall'inizio quindi non so comunque come andrà a finire l'attesa. Quindi a questo punto io sto aspettando. Ma quanto devo aspettare? Qualche di uno mi può dare una risposta?